Sarebbe diventato un vero e proprio paese, più grande di tutte le frazioni del comune, compreso appunto il capoluogo Montecorice. Ma l'amministrazione comunale ha detto no, bocciando un progetto da svariati milioni di euro, della Nusco Immobiliare SRL, per la realizzazione di un complesso residenziale di circa 116 unità abitative di numerosi locali commerciali nella zona di San Nicola a Mare. La giunta comunale, guidata dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, non ha approvato il piano urbanistico attuativo PUA ad iniziativa privata presentato dalla Nusco Immobiliare SRL, perché non sarebbe compatibile con le normative vigenti in materia urbanistica. Diverse le motivazioni che hanno spinto gli amministratori comunali ad esprimere pareri avverso alla realizzazione del complesso residenziale, Il comune si legge nella delibera di giunta, che sarà notificata oggi pomeriggio in consiglio comunale, non essendosi ancora dotato del piano urbanistico comunale, non può provvedere all'adozione di un PUA. Inoltre, l'intervento non è compatibile con la disciplina del piano territoriale paesistico del Cilento Costiero e neppure con le disposizioni del piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno. L'intervento proposto, precisa il sindaco Piccirilli, contribuirebbe ad alimentare l'antropizzazione del territorio, già oggetto di una notevole aggressione edilizia. Abbiamo ritenuto opportuno, tenendo fede alla normativa in materia, bocciare questo progetto, che non porterebbe inoltre nessun beneficio alla collettività. Scoppia però un caso legato al parere contrario sulla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dall'ufficio urbanistico del comune. E' la prima volta, attacca l'assessore maffia, che è la responsabile di un ufficio pubblico, non fa gli interessi della collettività, ma quelli del privato. Intanto, la società immobiliare, che già nei mesi precedenti aveva chiesto al presidente della provincia di Salerno la nomina di un commissario ad acta, ha inviato al comune cilentano un'istanza di accesso agli atti. Mentre da Monte Corici arriva un'apertura. Eravamo e siamo disponibili alla realizzazione di una struttura alberghiera, dice il sindaco, ma assolutamente no ad una megalottizzazione. Vogliamo evitare la cementificazione del territorio, al contrario di quanto è stato fatto con l'amministrazione precedente.